Tutti insieme per la pulizia del porto di Termoli, l'idea di Assoport e G.S. Travel che subito hanno trovato il consenso del comune adriatico, sindaco e assessore all'ambiente non sono mancati all'appuntamento, che ha coinvolto molti esponenti della marineria termolese, che con guanti alla mano si sono dati subito da fare per cercare di ripulire il bacino portuale dall'abbandono sconsiderato dei rifiuti. Presente anche l'arieco che ha provveduto con i propri mezzi al recupero e allo smaltimento dell'immondizia, il comune di Termoli nei giorni scorsi ha chiesto alla regione la gestione del porto proprio per risolvere la problematica dei rifiuti. Siamo tutti un po' gli operatori, dalla marineria, pescatori, operatori, un po' tutti del porto. Abbiamo iniziato a fare le prime immersioni con il sub, con Francesco Cannarsa, che abbiamo preso i primi rifiuti, gomme, vetro, plastica, un po' tutto quello che c'è. Noi ci fa molto piacere di questa attività perché siamo impegnati nell'antinguinamento da anni e ci teniamo al nostro porto, come tutti quanti noi, per averlo sempre pulito e averlo sempre in ordine, anche perché è un porto turistico, è un porto dove partono tanti passeggeri. Sindaco Roberti, è già da inizio mandato che l'amministrazione comunale sostiene ogni tipo di iniziativa in ambito ambientale, come in fin dei conti questa per la pulizia del porto? Sono quelle iniziative che in qualche maniera dovranno sensibilizzare i nostri cittadini. Quindi dobbiamo pensare che Termoli è una città turistica, ma nella stessa maniera dobbiamo pensare che il porto di Termoli è un biglietto da visita anche per la città perché è un porto all'interno della nostra città, per cui chi vede il porto di Termoli poi sporca può pensare che il porto è sporco, quindi la città è sporca. Dobbiamo fare un enorme sforzo, anche perché c'è una normativa complessa sull'area portuale per poter gestire lo smaltimento dei rifiuti. I controlli sono quelli ovviamente dell'abbandono relativi all'abbandono di rifiuti indiscriminato. È chiaro che siamo in una situazione nella quale mancano in alcuni casi le predisposizioni specifiche per poter lasciare proprio i rifiuti e quindi è questo lo sforzo che si sta facendo anche con le amministrazioni interessate, comuni e regioni, per poter predisporre un adeguamento esterno tale che consenta appunto ai pescatori ma agli operatori in generale di poter andare a depositare i rifiuti anche magari in maniera differenziata. Si discute sempre sugli spazi che dovrebbero essere destinati alla marineria. Che cosa chiede la categoria? Spezzo una lancia a favore dei pescatori perché a volte siamo noi quelli incolpati, ma è evidente che sia anche così perché non abbiamo cassonetti, non abbiamo dove mettere la nostra immondizia. È da tanto che chiediamo sia al comune che alla regione chi di competenza qualche cassonetto per le immondizie quelle speciali tipo reti o cavi d'acciai, cosa che tarda ma a quanto sembra siamo sulla strada buona. Che tipo di rifiuti state trovando? Di tutto, bottiglie di vetro, plastica, cime, lattine di sigarette, che è uno schifo le sigarette, è una cosa vergognosa qua.